Per risolvere le tensioni fra Serbia e Kosovo non bastano per ora gli sforzi di Federica Mogherini, l'alta rappresentante della politica estera europea che ha invitato a Bruxelles i rappresentanti dei due paesi ex-Yugoslavi per un incontro definito da lei stessa molto costruttivo, non esita a richiamarli all'ordine. Spero che nelle prossime ore e nei prossimi giorni potremo far sì che ciascuno commenti un po' meno sugli altri e che ci impegniamo più concretamente a risolvere i problemi che sono ancora sul tavolo. Dall'inizio del dialogo aperto nel 2011 le tensioni non sono mai state così alte fra Belgrado e Pristina, indipendente dal 2008. Tensioni che hanno origine in un treno serbo diretto nel nord del Kosovo che portava alla scritta Il Kosovo è la Serbia. Secondo Pristina il convoglio trasportava armi e militanti di formazioni paramilitari per destabilizzare la situazione secondo il modello usato dalla Russia in Ucraina. I kossovari chiedono anche la demolizione di un muro costruito a Mitrovica che secondo loro servirebbe a dividere la città fra kossovari e serbi. La Serbia continua a rifiutarsi di riconoscere l'indipendenza del Kosovo a quasi 20 anni dalla guerra fra ribelli kossovari di etnia albanese e forze di Belgrado che fra il 1998 e il 99 fece 13.000 morti.